Next 100 Festival per raccontare 100 anni di storia della BMW ma soprattutto per cominciare anche a parlare delle auto del futuro. Sono con Enrico Giacobbi, Product Manager BMW e Gruppo Italia e qui siamo con due compcette incredibili. Facciamoci una passeggiata Enrico. Abbiamo sicuramente due interpretazioni o due reinterpretazioni dei modelli più leggendari delle vetture BMW Motorsport. Parliamo in questo caso dell'albore del BMW Motorsport, quindi anni 30, BMW 328, vettura di maggior successo negli anni 30, soprattutto per le competizioni tipo la famosa Mille Miglia, nostra gara italiana. Qui abbiamo la 328 Mage, ossia la reinterpretazione o meglio la costruzione ai giorni odierni della BMW 328 come l'avevano concepita all'epoca gli ingegneri. Qui abbiamo una ricostruzione, un concept nuovo, una visione del futuro di quella che è stata una macchina storica della BMW. Sicuramente abbiamo in realtà anche tanto presente perché questa vettura si caratterizza per il vasto impiego di materiali leggeri, alluminio ma in particolar modo carbonio ed è il concetto di costruzione leggera e intelligente di BMW, caratterizza quindi le BMW odierne, in particolar modo le BMW M per la maggiore prestazione e leggerezza del telaio. Caratterizza anche le BMW I che sono un concetto diametralmente opposto rispetto alle BMW M ma dove comunque la leggerezza e la rigidità della struttura data dal carbonio sono rilevanti. E infine la serie 7 che è la nostra punta di diamante della gamma e anch'essa a livello di telaio sviluppa e presenta importanti novità grazie all'utilizzo del carbonio. Comprimente Enrico, riesce a farci capire, magari anche i neofiti, magari anche quelli che non sono proprio addentro, anche gli aspetti tecnici, proprio le peculiarità di questa macchina. Una macchina che ha una sorta di gemellaggio, di parallelismo con un'altra grande autovettura del passato. L'abbiamo qui sulla nostra destra Enrico. Esattamente, abbiamo l'aggiornamento, il concept basato sulla 328 Touring Coupé che all'epoca, sempre negli anni 40 più che 30, era stata sviluppata da carrozzeria Touring, carrozzeria milanese. E quindi abbiamo di fatto l'aggiornamento, la versione Spyder Roadster della 328 e la sua analoga versione con carrozzeria Coupé. Tra l'altro partecipante al Good Food Festival of Speed nel 2007. Insomma, veramente una grande... Noi vi aspettiamo, perché qui è una zona, la zona 38 delle cosiddette macchine del futuro. Noi stiamo raccontando, stiamo celebrando 100 anni di vita, di storia, ma qui stiamo cominciando a scrivere in questo weekend, l'ultimo weekend di settembre, anche quello che sarà il prossimo secolo della storia BMW. E credo che Enrico ci ha già dato dell'incipito importante. Esattamente, è proprio questo lo spirito di questa celebrazione, di come il gruppo BMW intende la celebrazione del proprio centenario. È una proiezione ai prossimi 100, quindi verso il futuro, grazie al know-how, alla storia che abbiamo alle spalle in questi 100 anni. Si continua, si continua a lavorare in Work in Progress. Io ringrazio Enrico Giacobbi, guarda sei stato veramente prezioso, restituisco la linea della regia, ma c'è ancora tanto a raccontare in questo Next 100 Festival. Grazie a tutti.